Per il terzo anno consecutivo in Italia si registra un calo della disoccupazione e un aumento del tasso di occupazione. Diminuiscono nel 2016 anche gli inattivi, sintomo di un minor scoraggiamento che spinge a cercare un impiego. La fotografia scattata dall'Istat sul mercato del lavoro nel quarto trimestre e il consuntivo dell'anno comprendono alcuni elementi positivi, ma il 2017 non dovrebbe presentare particolari miglioramenti. Lo shock che ha colpito l'economia italiana a seguito della crisi economico-finanziaria resta pesante e si intreccia con nodi strutturali che rendono poco brillanti le prospettive in un contesto di moderata ripresa. Una buona parte degli aumenti dell'occupazione poi si spiega con la permanenza al lavoro dei più anziani dovuta alle riforme previdenziali degli ultimi anni. Comunque nel 2016 la percentuale dei disoccupati è scesa all'11,7% e il numero degli occupati è cresciuto di quasi 300.000 unità. In buona parte con contratti a tempo indeterminato, anche se nella seconda metà dell'anno c'è stato un significativo indebolimento di questo trend. E non andrà meglio nel 2017, visto che la creazione di occupazione permanente non potrà beneficiare degli sgravi contributivi garantiti fino a dicembre per le nuove assunzioni. Nel 2016 il numero di inattivi diminuisce per il terzo anno consecutivo e misura molto più marcata, coinvolgendo entrambi i generi. L'export tira con un commercio globale che nonostante la minaccia di protezionismo di Trump è in ripresa e dall'industria italiana potrebbero arrivare buone notizie per chi non lavora.